Ragazzi miei belli, buongiorno a tutti. Allora, non sto facendo video tutti i giorni perché cerco, insomma, di fare andare le cose e poi magari tutto in una volta vi dico quello che penso. Allora, quello che si è consumato sicuramente, quello che si sta consumando da parte di Marcello Brozovic, l'Inter, l'Al Nasr, è una gran confusione, è un grandissimo caos che probabilmente noi da fuori non capiamo, cioè non riusciamo tanto a collegare il puzzle, a costruire il puzzle, o in realtà ci facciamo mille storie in testa, diciamo ma è andata così, ma la società ha sbagliato, ma Brozovic sta sbagliando, ma Brozovic è un pagliaccio, ma questi sono pagliacchi, insomma, ci stiamo facendo in qualche modo un nostro pensiero, no? L'unico pensiero però che penso ci ha comuni tutti quanti è che vendere Marcello Brozovic a 18 milioni di euro, più bonus arrivando a 20 milioni di euro, è una vera e propria eresia, secondo almeno quello che è il valore di mercato attuale dei giocatori validi come Marcello Brozovic, no? Perché se ribadisco e ripeto che se un Tonali costa e vale 70 milioni di euro, pur avendo 23 anni ci mancherebbe, Marcello Brozovic un 30 milioni, 35 me li vuoi dare? Io non è che ti chiedo, per via dell'età, per via dell'età, poi questa mattina sulla Gazzetta dello Sport esce una notizia, cioè nel senso che in realtà c'era nell'aria, in realtà io subito dopo il mondiale dissi a chi era vicino a me, alle persone, ai miei amici, interisti, al mio compagno, insomma alle persone a me care, e dissi Brozovic quest'anno a giugno va via, si percepiva, si percepiva, chi è che capisce il linguaggio del corpo e alcuni meccanismi, alcuni comportamenti, capisce che probabilmente qualcosa si era spezzato, tant'è vero che da quello che dice la Gazzetta dello Sport l'Inter aveva già messo in conto questo sacrificio, e cioè prendere meno di quello che in realtà si potesse pensare di prendere per Brozovic, ma comunque di darlo via, per determinate situazioni, per determinate cose che non andavano, per il montengaggi sicuramente, poi è chiaro ragazzi, la verità la sanno solo loro e soltanto loro, Brozovic sicuramente da professionista, secondo me è un po' esagerato, ha un tantino esagerato, potrà avere tutte le ragioni del mondo, ma così facendo, mettendo quelle storie, ma più che altro non le altre precedenti, ma quella con il tendone da circo, quella è stata pesante, e quella purtroppo non volendolo, indirettamente, ha incluso anche noi tifosi, perché ovviamente noi tifosi, noi tifiamo l'Inter, quindi è chiaro che se offendi i nostri colori, offendi la nostra società, in quel caso offendi noi, ma, 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 è assurdo ed imbarazzante che gente valida, seria, professionista, professionale come Beppe Marotta, debba lavorare in questi modi qui, in questi termini qui, io penso che si è raggiunto veramente il limite della decenza di una società, perché? Sicuramente le altre non staranno meglio, sicuramente le altre pure devono tirar fuori per incassare, sicuramente si parla più dell'Inter nei giornali, nelle TV, si parla sempre solo dell'Inter, anche quando l'Inter non viene beffata, viene beffata, perché in questo caso, anche quando si parlava di Aspiriqueta, è interbeffata, casetta dello sport, interbeffata, il Corriere interbeffata, è beffata di che? Aspiriqueta ha deciso di rimanere in Spagna per via della famiglia, beffata da chi? Da che cosa? Cioè, basta, cioè non è che c'era una trattativa in corso, oddio, domani viene e mette la firma, il problema quale? Io non capisco perché ogni volta bisogna fare questa pantomima, questo cinema, perché? Sempre per l'Inter, anche le altre società sono in una situazione di disagio, ma sicuramente non sono limitati come Beppe Marotta e compagnia Bella. C'è stato chi ha detto, in una trasmissione televisiva a 7 Gold, se non sbaglio, che Piero Ausilio e Bacin non parlano con Brozovic praticamente da mesi. Ora dico una cosa, voi che siete super partes e comunque dovreste essere due persone mature, no? Ausilio e Bacin, ma si chiarisce, no? Siamo in un paese civile dove si può chiarire, io penso, cioè, forse non si ricorda la dirigenza dell'Inter, non parlo di Marotta, che si agisce sempre nel bene dell'Inter, in funzione del bene dell'Inter, questa cosa forse non vi è chiara. Io capisco i disagi, capisco tutto quello che volete, ma bisogna mantenere un'armonia, se non ne siete capaci, via dall'Inter. E questa non è la prima volta, caro Piero Ausilio, che succede una cosa del genere. Spero non sia vera, figlio mio, alzo le mani, perché ovviamente è detto sempre da terze persone, alziamo le mani. Ma è possibile mai che sei sempre in mezzo ai casini? Possibile mai che litighi sempre tu con i giocatori? Possibile mai che c'è sempre un bordello ogni volta che tu fai qualcosa? Possibile mai che è sempre un casino? Poi Beppe Marotta ti fa gli elogi per aver preso Turam. Voglio vedere quanto c'è di te e quanto c'è di Beppe Marotta ad aver preso Turam, forse deve farlo, forse ti deve elogiare, ti deve portare in alto, non so neanche per quale motivo. A me dispiace pure dirle queste cose, ma... Cioè, Steven Zanghi, io ti ho sempre ringraziato, ti ho sempre difeso. A me sei pure simpatico, ti voglio pure bene. Però... Però basta. Cioè, insomma, non è che tutte le Stati può essere sto circo e queste. E dai, ci vuole anche un minimo di decenza per dire basta. Non posso prendere sicuramente un miliardo e duecento milioni per una macchina usata, ne prenderò magari meno, ma almeno la rispetterò, rispetterò i suoi tifosi, perché tu che vieni a chiederci 80 euro in più di abbonamento annuale per poi farci vedere svendere, tipo al mercatino qui sotto a Borgo Manero, svendere Marcello Brozovic a 18 milioni di euro? E no. Come puoi pretendere soldi, 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 soldi e soldi? Hai rotto le scatole, basta. E mi sto frenando, credi, mi sto frenando. Mi sto frenando, ma non puoi pretendere sempre soldi appalate dai tifosi dell'Inter perché ti approfitti dell'amore che i tifosi dell'Inter hanno nei confronti della squadra e di quei colori lì? E poi ci fai vedere questo scempio da parte della dirigenza che, poveraccia, ha le mani legate grazie a voi. Basta! Basta! Sono sicura che farete il meglio per l'Inter, ma sento di voci, giocatori del Torino, giocatori della Salernitana, oh! Ma casimo l'Inter! Casimo l'Inter! Tu vendi Onana, magari, spero di no, a 60 milioni di euro, 50 più bonus? E per fare che cosa? Per comprare il giocatore del Torino? Singo? 6, 7, 8? Ma che è? Ma che è? Ma non vi affacciate nemmeno a fare si acquisti qua, non vi affacciate nemmeno. Mi avete lasciato andare a un Bellanova che costava 7 milioni di euro, ragazzi. Avrete sicuramente le vostre valide ragioni, avrete sicuramente i vostri validi obiettivi, ma non mi fate acquistire al Torino e company perché veramente mi girano le palle dopo che ho speso 80 euro in più, ancora in più per l'abbonamento di quest'anno. Eh! Un pochettino di rispetto, un pochettino di rispetto, cazzo! Eh! Io penso, io penso, e compratemi Lukaku, e prendetemi di nuovo Lukaku perché è in attacco senza Lukaku, ragazzi miei, inutile, ci andiamo a sedere, andiamo a coricarci, moriamo secchi perché parlate, parlate, parlate di quello che ha sbagliato Lukaku nella finale, ma non parlate di quello che ha sbagliato Lautaro nella finale. Lautaro sicuramente è uno che ha impegno, mette impegno, abnegazione e tutto quello che vuoi, ma per due mesi l'anno si addormenta e nelle partite più importanti nullo. È la verità! Quindi davanti in attacco in campionato abbiamo bisogno di uno che in campionato, quando sta bene, segna sempre e fa assist tutte le volte! Quindi non sentenziate proprio l'unico che non bisogna sentenziare! Per me! Sono incazzata! Adesso magari mi calmo e poi si parla di nuovo! Vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra Lukaku vi vuole bene e sempre, 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 forza Inter perché i colori non si discutono mai e tutto il resto che mi sta facendo girare un po' le scatole. Tu vi continui!